Sicuramente, sicuramente va fatto un lavoro grosso di educazione sanitaria. Ma quanto si spende in educazione sanitaria e prevenzione? Si spende l'1,5% del bilancio, in Toscana un pochino di più, si può arrivare fino al 5% in prevenzione, quindi in informazione, in educazione del cittadino, all'autocura, a tutte queste cose. Mentre si spende il 95% per curare molte delle malattie che sono legate poi agli stili di vita sbagliati. Quindi bisognerebbe lavorare su questi aspetti per educare i cittadini. Nessuno però va al pronto soccorso, diciamoci, con piacere, e partire, e sapere, e comunque ci vuole anche per un raffreddore, ma a stare lì, se è ora a aspettare, e poi mi fanno pagare anche il ticket, per un raffreddore sicuramente il cittadino arriva al pronto soccorso in assoluta buona fede. Sta male, non trova una risposta sul territorio, spesso questo avviene il fine settimana quando i medici di famiglia sono meno disponibili, non c'è una copertura sanitaria sul territorio. Insomma, diciamo, c'è da rivedere anche la medicina di territorio. Allora, fare un ospedale che lavora solo sull'intensità di cura, come se fosse un grosso pronto soccorso, indecenza breve, che non ce la fa a assorbire nei reparti perché sono stati ridotti tantissimo posti letto, e non avere un territorio efficiente perché comunque si cambia noma di stretti chiamandoli case della salute, chiamandoli consultori, eccetera, però poi non si riesce a fare una medicina di territorio davvero capace di accogliere il paziente e seguirlo. Verificando gli orari per i medici di famiglia così... Assolutamente, ci potrebbe essere da rivedere anche la modalità con cui i medici di famiglia lavorano. Andrebbe rivisto alcuni aspetti.